Salve amici, Alessandro Domenico Calvi, benvenuti al Scientific Moment, trasmesso a voi qui dalle pianure innevate della Scozia orientale, il 4 aprile 2018. Oggi vorrei ricrearvi con la presentazione della prima edizione del Scientific Moment, ovvero quella del 4 luglio 2018, intitolata Pseudocomponenti e la loro utilità nell'industria del petrolio. Inizialmente avevo deciso di non cambiare per niente la presentazione, ma poi tra un errore di battitura e l'altro mi sono lasciato trasportare e ho anche aggiunto delle diapositive nuove, anche per espandere su alcuni concetti e renderli un po' più chiari. E niente, allora io direi a chi ha accettato Spenied e poi lasciate che la mia voce vi si accompagna in questo viaggio tra scienze e scemenze. Cominciamo allora. Pseudocomponenti e la loro utilità nell'industria del petrolio. Io vorrei cominciare quindi, prima spiegare quello che è la distillazione generalmente e poi come si applica all'industria del petrolio. Vedremo quasi subito i problemi che la teoria classica ha nell'essere utile ad applicarsi alla distillazione del petrolio e quindi vedremo l'emergenza e l'importanza degli pseudocomponenti. Poi vi farò qualche esempio e espanderò sul concetto per inglobare anche altri ambiti che secondo me sono pertinenti a quello che sono il concetto degli pseudocomponenti, anche se in realtà questa terminologia viene solo utilizzata nell'industria del petrolio. Allora, cominciamo con i principi della distillazione. La distillazione non è altro che la separazione di due o più componenti di una mistura per la loro volatilità. La volatilità è fortemente correlata con il punto di ebollizione, quindi per gli scopi di questa presentazione possiamo tranquillamente usare il punto di ebollizione come misura della volatilità di un elemento chimico. Quindi, facendo un esempio, qui abbiamo una torre di distillazione con un reboiler dove i liquidi che scendono bollano e tornano su e qui c'è un condensatore dove si raffredda e i liquidi riscendono e il vapore oppure anche il liquido va come prodotto. Una mistura più o meno del 12% di etanolo per volume, che è più o meno il massimo che può essere raggiunto tramite la fermentazione, prima che i fermenti muoiano nel loro stesso escremento perché l'etanolo è un prodotto della digestione degli zuccheri. Allora, con questo calore che viene da sotto e appunto tutti questi piatti che ci sono al centro, c'è una separazione effettiva di quello che sono l'etanolo e l'acqua e quindi si concentra nei due flussi. Questo è uno dei tipi degli interni di una torre di distillazione, questo si chiama double pass, a passo doppio, perché appunto qui i liquidi scendono dai due lati su questi piatti perforati e poi quando questi si dovrebbero riempire e continuano a scendere e così via. Ci sono vari tipi di piatti a seconda delle applicazioni e quello che sono appunto le necessità del sistema. E non solo, perché potrebbe anche essere una colonna diciamo con questo packing, detto in inglese, che non è a piatti, sono soltanto delle superfici dove appunto ci può essere la condensazione e l'evaporazione dove poi più su si va più è fredda la torre di distillazione e quindi c'è più etanolo per esempio. Allora, andiamo a vedere quali sono i meccanismi della distillazione. Quindi facciamo un'analisi per una mistura binaria. Ci tengo a dire che questo diagramma è molto semplificato rispetto a quello che è il reale diagramma del etanolo e acqua. Allora, facciamo quindi questo. Questo rappresenta la frazione di etanolo nell'acqua, quindi qui abbiamo 0% etanolo e qui 100%, dove a una certa temperatura, per esempio al di sotto dei 78 gradi, tutto il liquido e al di sopra dei 100 sarebbe qualsiasi concentrazione e sempre vapore. Mentre la parte più interessante è appunto quello che rende la distillazione possibile e questa fascia qui ha due fasi. Cosa significa due fasi? Vuol dire che ci sarà un po' di evaporazione e il sistema conterrà sia vapore che liquido. E la cosa importante è che appunto la composizione del vapore sarà diversa da quella del liquido. Quindi questa linea qui si chiama punto di bolla e questa linea qua si chiama punto di rugiada. Cosa significa? Che noi riscaldando un, ipoteticamente mettiamo qua un 15% di etanolo in acqua, riscaldandolo, appena arriverà a questo punto ci sarà la prima bolla nel liquido, mentre scendendo ci sarà la prima goccia formata. Queste due temperature sono diverse a seconda della concentrazione della mistura. Per l'acqua pura o per l'etanolo puro, o qualsiasi componente puro, il punto di bolla e il punto di rugiada è lo stesso ed è chiamato appunto punto di ebollizione o punto di condensa come acqua a seconda di quello che è l'applicazione. Quindi riscaldando l'acqua appena arriva a 100% evapora e raffreddando il vapore acqueo appena arriva a 100% condensa. Mentre per una mistura che è diversa da una cosa pura, questa temperatura è diversa. Quindi mettiamo qua a 90 gradi comincia ad evaporare, mentre a 98 comincia a condensare, che è diverso. Quindi cosa succede quando noi arriviamo in questa zona a due fasi? In realtà, ecco, a questa specifica temperatura, un liquido ha una concentrazione, mettiamo, del 10% di etanolo, mentre il vapore del 40%. Ora, questo è, a parte che non è il diagramma giusto, diciamo, è empirico. Però è un'esagerazione perché in realtà non si riusciremo mai ad arrivare da qui a una temperatura così alta, diciamo, si fa per gradi molto più piccoli, però per illustrarvi penso che sia utile avere questo. Quindi questo liquido scende dalla torre di distillazione con il 10% di etanolo, mentre questo vapore sale al 40% e così via. Quindi a un altro piatto, questo, diciamo, raffreddandosi e creando dei liquidi a una concentrazione più bassa delle 40%, scendendo e così via, con i veri piatti. E poi, quindi ci sarà un'effettiva separazione. Questo può essere anche spiegato da questo diagramma, dove appunto con delle scalini noi andiamo sempre verso le due estremità, quindi il liquido va sempre più verso qui e il cover verso qua. Ora, ovviamente poi ogni piatto ha la sua efficienza, quindi non è che siccome c'è uno stadio nella torre di distillazione, avremo questa separazione, anzi, l'efficienza potrebbe valere dal 3 al 98% a seconda dei casi. Quindi questo, solo per completezza, vi faccio vedere quello che è il vero diagramma della mistura etanolo-acqua. Come possiamo vedere qui abbiamo un bel problemino, infatti, perché ha notato nella diapositiva precedente, l'etanolo che usciva da sopra era al massimo al 95%, mentre l'acqua era oltre il 99%. Proprio per questo problema dell'aziotropo, aziotropo in greco significa che bolle in maniera costante, quindi qui bollendo questa mistura, rimane la concentrazione del vapore, la concentrazione del liquido è uguale, quindi non possiamo avere una separazione effettiva e non potremmo andare, diciamo, oltre questo punto. Queste sono delle problematiche, appunto, poi potremmo dedicare sicuramente un'intera presentazione a sé, soltanto per spiegare gli aziotropi in vari tipi di sistemi e come aggirare l'aziotropo. Ok, quindi andiamo avanti. Quindi qual è il problema? Abbiamo fatto vedere come possiamo separare due componenti con volatilità diversa, ma veniamo al dunque. Come mai questa tecnica, diciamo, una tecnica teoretica, non può essere utilizzata per la distillazione del petrolio? Allora, per cominciare a spiegare, diciamo, a rispondere a questa domanda, vediamo un po' come è l'industria del petrolio. Questa è una slide presa dall'Università del Surrey, da uno dei miei corsi. Cominciamo ad avere qua dei fornitori via mare, ma potremmo anche averli via conduttura, o altre maniere via camion, anche se, diciamo, le petroliere sono la cosa più comune, visto che il petrolio si trova anche, diciamo, in mezzo al mare. E come prima cosa abbiamo l'uguagliamento, di cui questa è la cosa più importante, perché a seconda della fonte il petrolio varia in parecchie caratteristiche, e che andiamo a vedere un po' più in là. Poi c'è la raffineria, che include anche, appunto, l'autorio di distillazione, eccetera, eccetera. E poi ci sono dei prodotti, poi qui abbiamo anche degli uffici per le varie parti dell'azienda, tra cui anche, diciamo, la sanità, questi sono dei posti abbastanza remoti, di solito, le raffinerie. Allora, andiamo a vedere i composti del petrolio. Quindi, come abbiamo detto, varia a seconda della provenienza, colore, proprietà chimico-fisiche, composizione, eccetera, eccetera. Quindi il petrolio greggio è una mistura di componenti organici, idrocarburi, più di mille tipi diversi, tra cui alcani, nafteni, aromatici, e hanno delle punte di ebollizione tra i 20 e i 360 gradi, o anche più. Quindi, possiamo vedere che varia parecchio quello che c'è dentro, e le percentuali di questi componenti varia da ogni pozzo petrolifero, poi più genericamente, a seconda della regione geografica. Ma le cose più importanti, appunto, sono, più che altro, i solfati. Il solfato non è ottimo averlo, diciamo, nella benzina, perché bruciandolo si crea il diossido di disolfo, scusami, sì, disolfo, che poi diventa triossido, e con l'acqua reagisce per creare l'acido solforico, che è la pioggia acida. I temperi nitrati, diciamo, anche se è un problema minore. I nitrati più vengono dalla combustione proprio in aria, dove l'azoto dell'aria si ossida. Poi ci sono anche dei componenti di metalli, non, diciamo, non, come si può dire, negligible. Fammi trovare la parola. Non trascurabile, ecco. Quindi c'è una percentuale non trascurabile di sodio, un per cento, anche vanadio. E con tutte queste cose qua vanno a creare problemi, e poi sale e sabbia, perché appunto il petrolio viene dal mare, e tutti questi componenti vanno a creare, a parte grandissimi problemi per l'operazione delle torri, si intasano, si creano delle misture azeotope, appunto, nella torre, che crea dei problemi, diciamo, a far defluire. Ma, diciamo, ok, a parte questi problemi qua, noi non possiamo creare, avere mille prodotti diversi dalla distillazione del petrolio, perché abbiamo più di mille tipi di componenti, come facciamo ad avere, diciamo, ogni... a ogni componente dovremmo avere una linea di prodotto. Questo è un diagramma più semplificato, qui entra il greggio e arriva nella distillazione, diciamo, atmosferica, e qui cominciamo a vedere i nostri primi, diciamo, indizi su quello che sono i pseudocomponenti, ovvero gas, LPG, nafta, creosiliene, gasolio, e altri, diciamo, cose più pesanti. E poi le cose ancora più pesanti vanno a creare, poi, bitume, e... la roba più sporca, appunto, il fuel oil, questo serve per le petroliere, e altre... navi che vanno in acqua internazionali, dove, appunto, non ci sono delle leggi ambientali, e quindi la roba più sporca può essere bruciata in mezzo al mare, senza nessun problema. E qui ci sono anche dei solfiti, solfati, molto concentrati, infatti, dalle ciminiere di queste navi, anche quelle, diciamo, che trasportano cose, tipo, cioè, da Amazon, se ti arriva una roba dalla Cina, ti arriva su una di queste navi. Da queste ciminiere esce sicuramente un acido solforico molto potente, infatti, vanno cambiati spesso, diciamo, queste ciminiere, corrosi. Bene, allora andiamo in un diagramma un po' più dettagliato, e qui cominciamo a vedere, quindi, i gas sono a meno di 40 gradi, le nafte tra i 25 e i 175, cherosene, e questi altri tipi di percentuali, scusami, di temperature, e cominciamo a vedere, appunto, a seconda di quello che è il prodotto, noi abbiamo delle specifiche che però non includono la, diciamo, la, la composizione precisa di quello che c'è dentro. Quindi, l'obsedocomponente è un materiale senza composizione chimica precisa, però è definito tra le loro proprietà chimico-fisiche, quindi, punto di ebullizione, temperatura di fiamma, densità e impurità massime, esempio, lo zolfo, appunto, questo è reso possibile perché noi andiamo a bruciare quelli che sono i prodotti del petrolio e non ci interessa, diciamo, quello che, diciamo, l'importante per noi è che scoppi e che non stia nelle normative ambientali, più che altro. Quindi, esempi di pseudocomponenti, gasolio, cherosene e benzina, questi sono pseudocomponenti. ed è questo era, diciamo, il succo della presentazione del scientific, però vorrei anche espandermi un pochino e mettere degli altri, diciamo, delle altre cose, quindi, l'aria, per esempio, è un pseudocomponente, secondo me, perché contiene una certa percentuale di ossigeno e di azoto più o meno stabile, che varia perché l'umidità, l'umidità relativa nell'aria è parecchio variabile e questo sposta gli altri componenti ma più o meno sappiamo che cos'è l'aria e potremmo dire, ora vedremo più avanti, che la purezza, a seconda, diciamo, delle particelle per metro cubo che c'è, possono definire degli pseudocomponenti nell'aria. Uno potrebbe, un altro potrebbe essere le sigarette, diciamo, il tabacco delle sigarette oppure una torta, quindi andremo a vedere l'aria di una camera bianca ISO 146441, un tabacco Amberleaf e un altro 3.000 della nonapina. Quindi, vediamo questi esempi. Cominciamo con la benzina, questa è la normativa europea a seconda di quello che può essere dentro la benzina, quindi cominciamo con il colore, l'aspetto, la densità e come vediamo c'è un un simbolo di maggiore o uguale a, però non c'è una cosa precisa e qui abbiamo numeri di ottano, diciamo, numeri di ottano in laboratorio, numeri di ottano nel motore, punto di infiammabilità e poi ci sono dei limiti su certe componenti, quindi meno di un percento di benzina, aromatici o le fine, queste sono delle estere e poi lo zolfo totale. Però non c'è nessuna, poi ci sono anche ovviamente altre norme, però queste sono le più importanti, secondo me, però non c'è scritto che ci deve essere per forza un certo numero di C8, cioè di ottani, ottano, butano, nonano, decano, non c'è assolutamente scritto, infatti è lo pseudo componente che è la benzina, bene o male, se tu vai a prendere la V-Power 8 tu sai che più o meno quello che prendi è una benzina con un numero di ottano pari a 102, quello che è, 108, oppure con una mistura al 5% di tanolo, o la Super 95, tu meno male ti sai quello che ti trovi per il tuo motore, per il resto non è importante quello che c'è di preciso dentro e che potrebbe anche variare a seconda della pompa, ovviamente in maniera lieve, però l'importante appunto è che sia benzina. Andiamo a vedere l'aria, quindi l'aria si classifica, ci sono varie classifiche per l'aria, ma questa ho scelto la ISO, ci sono almeno 9 classi, 6 è relativamente pulita, non è pulitessima, che serve per i laboratori, quindi per esempio se uno deve andare a preparare dei microchip dove è importante che non ci sia polvere poi depositata quando vai a creare tutti questi apparecchiatori elettroniche molto sensibili, serve un laboratorio con una certa classe di aria, quindi noi sappiamo che l'aria appunto ha un 78%, un 21% di azote ossigeno, un po' d'argo, una percentuale minuscola di CO2 che sembra stia creando dei problemi enormi al nostro pianeta e poi un'imidità più o meno del 30-40%, più o meno quello che si trova nell'ambiente, diciamo, in una stanza. Però ecco, dov'è il problema? Che questo non è specificato, non è assolutamente specificato nell'ISO, perché appunto a noi non interessa la composizione precisa dell'aria, che potrebbe anche variare a seconda del posto, se tu sei dentro, anzi, molto probabilmente la CO2 sarà molto più alta perché appunto si concentra nell'edificio dove ci sono le persone. Però non è importante diciamo per l'ISO, quello che è importante appunto sono la grandezza delle particelle e quanti ce ne sono, quindi questa ho scelto una che non è pulitissima in ISO 6, se avessimo un ISO 1 magari sarebbe assolutamente pulita. Però appunto l'importante è che ci sono appunto questi maggiori o minori uguali a e se rientra in questi parametri rientra nell'opsetto componente che si chiama area classe ISO 6, per esempio. Andando avanti, oh qui ho sbagliato la depositiva, va bene. Il tabacco, quindi per ogni mg di tabacco abbiamo questi componenti qui, però diciamo precisamente ovviamente questi variano, però uno sa che quando vai al negozio e chiedi 35 grammi di Amberleaf sai quello che ti trovi. E poi l'ultimo è la torta di mene. Sappiamo che più o meno questo è la composizione, però a seconda di quanto è grande un uovo, a seconda di che tipo di pesi stai usando, più o meno può variare. Ovviamente se poi tu cominci ad avere quella che è fatto con lo zucchero di canna o la farina di grano duro possiamo trasformare non è più una torta di mela della nonna pina ma è la torta di mela della peppina per esempio. Però è sempre uno pseudocomponente perché noi diciamo la torta tu sai quello che è ma non è non è esattamente precisa quello che è la composizione. Mi ha rassicurato questo mio svarione che ho fatto espandendo il concetto delle pseudocomponenti anche a cose come l'aria il tabacco e le torte mi ha un po' rassicurato che mentre stavo cercando degli esempi di pseudocomponenti in un forum uno aveva scritto che sì l'importante è che la torta abbia meno di 5% di lievito per essere classificata come torta e ho detto allora forse ho pensato giusto quindi non credo sia troppo sbagliato espandere appunto le pseudocomponenti sono semplicemente una maniera per agglomerare vari tipi di altri componenti più specifici che però non specificano in maniera precisa quello che poi alla fine è l'utilità cioè io il tabacco me lo devo fumare la torta me la devo mangiare non è importante per me se ci sia più o meno glicerina più o meno sì ovviamente nei limiti quelli che sono poi sono le normative della salute però in termini di utilità non è non è importante bene quindi possiamo concludere gli pseudocomponenti sono appunto stati creati per utilità per riuscire a determinare dove mettere e a che temperatura mettere diciamo la linea del prodotto che esce dalla torre di distillazione per appunto siccome è impossibile definire i singoli componenti bisogna distinguere con altri parametri poi appunto per il loro utilizzo non è importante perché l'importante è sapere a quello per cui vengono usati e poi appunto ho espanso sul concetto delle pseudocomponenti anche per andare a vedere altri ambiti anche se in realtà il pseudocomponente è solo utilizzato per la distillazione del petrolio in maniera specifica questo è tutto io vi ringrazio per la vostra attenzione sono anche rimasto nei tempi più o meno del scientific normale io vi invito a lasciare delle domande giù qui su o su youtube o su beatshoot a tutti voi due iscritti al mio canale e niente poi io spero di continuare a fare le altre due presentazioni che ho fatto l'anno scorso e l'anno prima quest'anno anche metterle su youtube e poi ho anche delle altre idee qui ho già cominciato a preparare le presentazioni che magari vorrei farvi vedere anche se mi sembra che siano molto più lunghe e dovrò tagliarle dalle penneure nevate della Scozia orientale qui è tutto Alessandro Domenico Calvi buon scientific a tutti e spero che vi sia stato utile questa presentazione ciao ciao Grazie a tutti.